È Rosa il primo fiocco nelle culle dell'Aretino in questo 2024. Giudia è nata all'ospedale della Gruccia in Valdarno alle 5.40. L'ha seguita poi Giorgio, venuto alla luce alle 10.53 all'ospedale San Donato di Arezzo. I botti nell'Aretino non hanno provocato incidenti o feriti. Sono stati invece 11 gli interventi per intossicazione alcolica, 2 hanno riguardato minori. Il primo, poco dopo la mezzanotte in piazza Guido Monaco ad Arezzo, è stato soccorso un minorenne. Sempre nel centro di Arezzo, pochi minuti dopo, un'altra chiamata per un altro minorenne che aveva bevuto troppo. Numerosi casi in tutta la provincia, da Monte Sanzavino a Foiano fino al sodo di Cortona e ancora a Castelfranco, in Valdichio, Peneto e Prato Vecchio. Durante la festa in piazza Sant'Agostino ad Arezzo, una persona sarebbe stata aggredita poco dopo la mezzanotte da un uomo che poi si è dileguato tra la folla. Sul posto, i sanitari della misericordia indagano i carabinieri. Infine, sul fronte degli incidenti, ne è accaduto uno proprio pochi minuti prima della mezzanotte a Ponte Buriano, nel tratto della nuova viabilità a ridosso del ponte provvisorio. Un furgone con a bordo due persone si è scontrato con un Audi. A rimanere feriti i conducenti, un 72enne che guidava il furgone e un 20enne alla guida dell'auto. Un tratto, questo, non nuovo agli incidenti stradali.